Salve, salve da Marco Calabro per conto di cellocost.it. Ci troviamo oggi a Bangkok in Thailandia e quello che stiamo vedendo è la Marine Inn. La Marine è un albergo che sta qui nella capitale a Bangkok, che sta in un passiglio che è abbastanza piccolino, però la comparazione qualità-prezzo delle camere è buona. L'entrata non è delle migliori, però l'albergo è sicuramente con una buona comparazione qualità-prezzo. Una cosa importante, è l'unico albergo finora che abbiamo incontrato con una comparazione qualità-prezzo che ti dà anche il frigorifero fra i servizi della camera. Grazie per ascoltare i video di cellocost e arrivederci al prossimo video.